dalla parte del dritto la pallina è lì sta arrivando e la direzione è quella di impatto perché non è già lì sta arrivando dall'altra parte un attimino prima dell'impatto dell'avversario io faccio questo split mentre il mio avversario sta impattando la palla io faccio questo perché si chiama split step è quel saltello che mi porta ad essere più reattivo più scattante diciamo così più coordinato nello spostamento se io dovessi partire mentre il mio avversario impatta la palla io sono completamente dritto col busto quindi noi in avanti il peso sui talloni la palla la vedo passare invece se sono così tac sono già pronto ok poi come abbiamo detto la preparazione del colpo dopo aver effettuato lo split in questo caso ho decifrato e visto che la traiettoria del colpo e sul dritto cosa faccio inizio